Si chiama Amelia Ressel, è una giovane maestra delle scuole elementari che insegna alla Mount Zone Elementary School di Carrollton, nella Georgia, Stati Uniti d'America. E pensate che durante una lezione in classe, questa maestra elementare avrebbe praticato la masturbazione, l'autoerotismo, un atto di autoerotismo. La donna lavorava nella scuola in qualità di supplente, ma sarebbe stata sospesa subito dall'incarico e messa in arresto. Sarebbe un separietto piuttosto esplicito, la lezione in classe sarebbe diventata una lezione piuttosto pepata per i relativi studenti, ma ci sarebbe stata la relativa denuncia, la relativa quale è la piccola città o meglio comunità che ha visto il video fotto. Infatti la donna si sarebbe autofilmata mentre si stava divertendo a trastullarsi, il video pensate che è stato diffuso arrivando addirittura su Snapchat, la famosa app per Android ma anche per iOS, ma poi è stato rimosso. La donna in pratica avrebbe praticato un atto di autoerotismo davanti ai ragazzi, 19 ragazzini, bambini, non è chiaro se si siano accorti di cosa stava effettivamente accadendo, però le accuse per la donna sono davvero pesantissime. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi al canale e commentate. Ovviamente è stata sollevata dall'incarico che svolgeva in qualità di supplente. Ciao a tutti da Leandro, narratore italiano. Grazie a tutti.